Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762, sabato 6 aprile. A rete, la luna favorevole in acquario vi invita a trascorrere piacevolmente questo weekend, facendo un giro fuori porta in compagna di persone care. Se avete in vista dei brevi viaggi o lunga durata, ricordate che sono molto favoriti i contatti con l'estero. Tor, oggi è una giornata no, con la luna nemica e Saturno contrapposto. Se continuerete ad essere così puntigliosi e polemici, rimarrete soli. Gritabili e litigiosi, siete infatti insopportabili e poche saranno le persone disposte a starvi accanto. Gemelli, ricettivi e spontanei, riuscirete a diffondere intorno a voi disponibilità e intesa d'armonia. Ignorerete saggiamente le provocazioni altrui. Per qualcuno di voi forse si sta preparando un trasferimento all'estero, non scartate le buone occasioni. Cancro, un nettuno complice potrebbe stimolare il vostro senso d'altruismo e spingervi a qualche iniziativa sociale in favore dei meno fortunati. Plutone potrebbe insinuarvi il timore di mettervi in gioco sul serio. Non abbiate paura di esporvi. Leone, disturbata dalla luna in acquario, la giornata trascorrerà l'insigna del dubbio e dell'incertezza. Scontri con un familiare troppo pieno di sé. Baloterete le situazioni con eccessivo pessimismo e non sarà per niente facile farvi cambiare idea. Vergine, Nettuno all'opposizione vi rende pieni di dubbi. Una soluzione potrebbe essere quella di circondarvi di persone stimolanti o in grado di rassicurarvi. Plutone stuzziche raspese che vi sedurranno senza possibilità alcuna di resistere alla tentazione. Bilancia, curate i vostri interessi economici e non fatevi ingannare da soluzioni sulle in apparenza vantaggiose. Consigliatevi con un esperto. Non potete pretendere che un familiare faccia e dica soltanto quello che volete voi senza ribellarsi. Scorpione, se avvertite un irresistibile bisogno di tenerezza e volete sentirvi più coccolati del solito sarà colpa di Saturno che transita nel segno. Niente salti nel buio, niente improvvisazioni. Rispettate la necessità di ancorarvi alle vostre sicurezze. Sagittario, tra incontri piacevoli e passeggiati rilassanti la giornata correrà via in un lampo. Incontrerete gente piacevole che vi incuriosirà tantissimo. Saprete anche frenare l'eccessivo entusiasmo di un familiare desideroso di darvi consigli non richiesti. Capricorno, non amate improvvisare, questo si sa, ma se riuscite a farlo in modo adeguato riporterete vantaggi notevoli per voi e i vostri cari. Provate, oggi le vostre emozioni potrebbero essere mutevoli e portarli ad un piccolo battibecco con un amico. Acquario, simpatici e comunicativi avete un'ampia cerchia di amici che conta su di voi e che non deludete mai, organizzando incontri piacevoli e divertenti. Coltivate l'arte dell'improvvisazione ma amate tanto, proponendo al partner un weekend insolito. Pesci con Nettuno nel segno non sempre vi saprete destreggiare tra una bugia e l'altra e in più di un'occasione rischierete di farvi scoprire. Le parole sagge e significative di una persona che ha sofferto molto vi arriveranno dritti al cuore. Grazie. Grazie a tutti.